ciao ragazzi e ragazzi bentornati nel canale oggi facciamo un video dedicato e per questo ho portato numeri fortunati doppia sfida 20 per e battaglia navale allora adesso iniziamo e così dico per chi sono dedicati allora numeri fortunati e dedicata patrizia cina ciao patrizia allora iniziamo a grattare il tuo biglietto che si va bene allora iniziamo a grattare 64 vediamo se c'è no non lo vedo 60 60 60 non c'è 37 37 nemmeno 42 non lo troviamo nemmeno sul biglietto allora 30 nemmeno giochiamo al contrario a non trovare i numeri allora 63 63 non eccolo qui ok 28 eccolo qui abbiamo il 61 ultima fila 16 16 non c'è 38 ma tanto all'ultima non uscirà mai niente 73 poi abbiamo il 22 eccolo qui 58 non c'è poi abbiamo il 35 eccolo qui se uscisse il 75 mi farebbe tanto piacere ma non uscirà mai 26 e infine 46 niente di fatto ragazzi questo biglietto è perdente mi dispiace patrizia cina allora adesso abbiamo doppia sfida questo è dedicato a la rissa ciao la rissa iniziamo a grattare i numeri vincenti 14 14 questo è proprio duro 45 44 23 e 48 allora iniziamo 17 17 non c'è 12 niente 22 e ci abbiamo 23 24 proprio la beffa 43 43 44 45 poi 18 niente 47 c'è 48 46 è inutile anche dirlo 41 27 non c'è 13 c'è 14 e infine 30 che non vedo allora adesso grattiamo importi 20 euro mille euro 500 mila euro proprio forte questo 100 euro 50 euro 10 mila euro 10 mila euro 10 mila euro 500 mila euro abbiamo due 500 mila euro che rimarranno due poi continuiamo 10 mila euro ne abbiamo due 500 mila euro 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 44 85 12 niente 42 niente 34 niente 40 niente 23 niente abbiamo preso il 2 per ok bene minimo minimo saranno 10 euro perché se dovesse uscire il 5 sono 10 euro comunque poi 26 niente 24 non c'è e 19 ultima riga 14 35 18 16 e ultimo numero 13 niente quindi grattiamo il 2 per vediamo quanto abbiamo preso vediamo 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 5 euro 5 euro per 2 ok 10 euro grazie vicky ciao allora adesso grattiamo la battaglia navale di paola cavuano ciao paola allora questo il tuo biglietto iniziamo con le coordinate f2 f2 pezzo di nave grossa c1 pezzo di barca c6 pezzo di barca c7 anche qui un pezzo di barca tanti pezzettini di barca spero che ce ne faccia fare uno almeno ne faccia uscire una affondare una allora c4 1 2 3 4 ecco qui poi c2 pezzo di 5 ecco qui altro pezzo e 2 questo è sempre quella grande f7 e infine di 4 3 4 niente niente da fare c'era una canzone che diceva così non c'è niente da fare allora la griglia vediamo se esce scrignetto quante barchette che c'erano ma non è uscito nessuno allora niente niente di niente di niente niente scrignetto allora qui questo biglietto è perdente e comunque paola cavuano e ti ringrazio per avere scelto il biglietto allora di tutti questi grattini abbiamo vinto 10 euro con il 20 per biglietto richiesto da viti 46 va bene ragazzi allora qui abbiamo speso 15 18 euro e non recuperate 10 comunque bene sono contenta e io vi ringrazio e e alla prossima se il video vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi al canale ciao ragazzi alla prossima ciao